Un giovane di Roma è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina sull'autostrada A25. Al chilometro 144 in direzione Pescara c'è stato un tambonamento fra un furgone e un auto articolato. Il giovane conducente del furgone è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ambulanza all'ospedale di Popoli in condizioni fortunatamente non gravi. Pochi disagi al traffico per la rimozione dei mezzi sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Alanno. I rilievi sono affidati agli agenti della sottosezione della polizia autostradale di Sulmona e Pratola Peligna che dovrà ora ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Fortunatamente per il giovane romano si è trattato solo di un brutto spavento dal momento che non avrebbe riportato gravi conseguenze dopo l'impatto. la scena non è passata inosservata.